buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di classica ma non troppo come promesso oggi vi faccio ascoltare integrabmente il primo movimento della sinfonia numero 45 degli addi di franzi joseph haydn eseguita dal vivo dall'orchestra carlo antonio marino diretta dal maestro natale arnoldi e con noi ci vediamo la prossima settimana grazie e buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti